In arrivo delle nuove regole per i contributi economici da parte del Comune di Capaccio Pestum, l'amministrazione ha pensato di stilare questo nuovo regolamento diviso in 19 articoli al fine di far chiarezza su chi e come si può ricevere un contributo da parte dell'ente comunale. Potranno beneficiare dei contributi istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni senza scopo di lucro. I settori specifici a cui il Comune si riferisce con questo regolamento sono turismo e promozione, cultura, arte e istruzione, sport e tempo libero, tutela ambientale e sviluppo socio-economico. Le attività per le quali si desidera ottenere un contributo dell'amministrazione dovranno perseguire come finalità l'implementazione delle politiche e degli obiettivi dell'ente comunale, generare ricadute sul territorio e sulla città capaccese oppure inserirsi nel calendario degli eventi del Comune. L'amministrazione comunale sosterrà le attività con una summa fino al 70% del budget che si intende utilizzare per programmare l'iniziativa e si dovrà fornire al Comune tutta la documentazione utile per identificare ogni aspetto dell'ente che richiede il contributo. Invece per i patrocini non viene riconosciuto nessun contributo di natura economica, ma si può utilizzare il logo del Comune su tutto il materiale pubblicitario ed informativo e deve essere richiesto tramite l'apposito modulo di domanda. Spetterà dunque all'amministrazione la decisione di fornire o no il patrocinio.